Diamo il benvenuto ai fratelli Basile, qui in via Marchesi 9, Collegno si arricchisce di un nuovo progetto, possiamo dire innovativo nel campo dell'auto, un vero e proprio centro multiservizi, qui ci sarà tutto, 360 gradi dei servizi per l'auto, è una scommessa innovativa che guarda anche al 2021 con l'opportunità di fare formazione, quindi un disegno imprenditoriale contemporaneo, diciamo che anche nel mondo dell'artigianato si punta all'impresa 4.0 che è connessa con il mondo e offre ai suoi clienti l'opportunità di crescere, il nostro territorio come sappiamo è nella regione Piemonte è quello col più alto rapporto tra imprese e abitanti, quindi fratelli Basile vi accogliamo sapendo che qui si può crescere producendo buon lavoro e buoni servizi per tutti Piemonte Grazie.